Mister Castori, amichevole con la Vispesoro, un giudizio sulla partita, sulla sua squadra e sugli andarsari. La terza amichevole nell'arco di pochi giorni serviva soprattutto per dare continuità al lavoro che abbiamo fatto questi giorni, far sciogliere la gamba a livello fisico, migliorare gli automatismi e curare bene le istanze in campo e quindi sono di questo soddisfatto. Purtroppo il maltempo ci ha un po' limitato oggi nel lavoro e ho preferito tenere fuori 6 o 7 ragazzi per precauzione visto che poi magari il pericolo di infortuni può frenare la preparazione, quindi alla fine sono soddisfatto, mi è andato tutto bene, l'obiettivo però era quello di mantenere alta la concentrazione e il ritmo da parte dei ragazzi, quelli che magari ho deciso di mandare in campo, per questo andava bene. Tutti in preparazione, al prossimo amichevole 2 agosto contro il Sassuolo, delle informazioni con Torelli e su Ridolfi che sono ragazzi di peso che abbiamo visto fino all'anno scorso nella nostra squadra. Sampro con Sassuolo chiudiamo il periodo di preparazione, è un impegno arduo perché il Sassuolo gioca in Serie A, una squadra in qualche modo abbastanza forte secondo me, però ecco un test significativo è vero perché vorrà assaggiare un po' la nostra caprià di saper tenere il campo anche rispetto alle formazioni più forti di noi. Su Torelli e Ridolfi non posso che essere contento del loro impegno, la loro serietà, sono ragazzi che hanno voglia di arrivare, hanno ampi margini di crescita e lavorano con molto impegno perché comunque vogliono arrivare, questo è un dato di fatto sicuramente importante, quindi contento per l'impegno profuso fino ad ora e l'auspicio che possano continuare senza perdere l'entusiasmo perché il cammino è ancora lungo, la strada è ancora tanta da percorrere, però sono sulla giusta, sono sulla letta via insomma ecco. Ok, grazie mille. Guarda, sto guardando, adesso guardo fuori, sono qui fuori. E no, io sono di Garbidio, è online. Sì, adesso c'è qua, Carlino. Mister Castori, dovete chiedere qualcosa, Mauro, Mauro, Carlino dovete chiedere qualcosa, Chi? Mister Castori, sto aspettando, se dovete chiedere qualcosa, fare qualche domanda, Castori. No. Mister del Capo. Che chiediamo? Sì, è vero che lavora il carco ormai. Se l'ha detto stampa del carco, lo hai portato via. Oh, doggiamo, ma niente.